Oggi l'udienza per la strage della lanterna azzurra l'8 dicembre 2018 contro la commissione di vigilanza che autorizzò l'apertura del locale si richiede un risarcimento milionario per i familiari delle sei vittime. Le prime risposte dal governo sull'alluvione quanto si aspetta il presidente della regione Marche, Acquaroli, riguardo risarcimento e sostegno a imprese e famiglie colpite dall'onda di acqua e fango lo scorso 15 settembre. Dopo l'uscita di Castelli, Carloni e Latini presentata la nuova giunta regionale con Antonini, Biondi e Brandoni, dalle infrastrutture al sostegno all'impresa, i problemi del trasporto pubblico locale, le classi pollaio tra i dossier dei nuovi assessori. Arriva anche Ciruzzo, il pesce mangia plastica a Porto Nuovo per il progetto del Mise Costruiamo Circolare. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Eti G. Marche. Siamo in onda come sempre su Eti V. Marche ma anche in streaming attraverso il sito www.etvmarche.it e la nostra pagina Facebook. Dunque in primo piano la cronaca con l'udienza per la strage della Lanterna Azzurra. Lo ricorderete, l'8 dicembre del 2018 il filone d'inchiesta si concentra sulla commissione di vigilanza che autorizzò l'apertura di quel locale che poi si trasformò in una trappola mortale. Hanno perso la vita 5 adolescenti e una mamma di 39 anni, centinaia i feriti. Si richiede un risarcimento milionario, ovviamente niente potrà placare il dolore dei familiari delle vittime che però chiedono a gran voce giustizia. Il servizio di Giulia Boschi, vediamo. Queste sono delle ragazze di 14-15 anni, nel pieno della loro esistenza, che avevano tutto il diritto di vivere. Mi auguro che prima o poi si arrivi ad una conclusione, però già di base è impossibile parlare di giustizia quando dopo 4 anni una parte del processo deve ancora in realtà cominciare. Il pensiero del papà di Emma Fabini è quello di tutti i familiari delle 6 vittime della lanterna azzurra di Corinaldo da 4 anni in attesa dell'inizio del processo che vede imputati i membri della commissione di pubblico spettacolo, tra cui il sindaco di Corinaldo, due tecnici esterni e uno dei soci della Magic SRL e la società di gestione della discoteca. Il dibattimento si aprirà il prossimo 18 novembre e dovrà stabilire le responsabilità inerenti alla sicurezza del locale, in cui, a causa della calca innescata da un getto di spray urticante utilizzato da una banda di rapinatori, persero la vita le vittime. A stabilirlo, con una lunga calendarizzazione di udienze, saranno ben 22, il giudice dell'udienza preliminare al Tribunale di Ancona. La procura ha chiesto e ottenuto che vengano ascoltati in fase di dibattimento, oltre a tutti i nove imputati, anche all'amministratore unico e un altro socio della Magic SRL. Entrambi erano coinvolti per gli stessi fatti in un altro procedimento che si è concluso con un patteggiamento a 2 anni e 8 mesi per il primo e con una condanna a 4 anni e 2 mesi in abbreviato per il secondo. L'accusa ha inoltre chiesto che vengano ascoltati in aula anche i consulenti che hanno eseguito gli accertamenti medico-legali, le perizie sulla discoteca e su dispositivi elettronici, tutti accertamenti per cui le difese avevano avanzato richiesta di esclusione per irregolarità nelle notifiche, respinta però dal GUP. Il giudice ha inoltre ammesso le prove testimoniali raccolte dalla procura in fase di indagine, ammettendo però la citazione in aula solo di un centinaio di testimoni tra quelli richiesti dalle difese e dalle parti civili. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno inoltre fatto richiesta di risarcimento per diversi milioni di euro, chiedendo anche il sequestro conservativo di tutti i beni dei nuovi imputati, richiesta a cui si è associata anche la procura ma su cui la GUP si è riservata di decidere e a cui si sono opposte le difese, chiedendo un termine per rispondere alle stanze di sequestro. Si deciderà invece nell'arco del processo se il giudice effettuerà un sopralluogo nella discoteca come richiesto dagli avvocati delle difese. L'ispezione dei luoghi è necessariamente un completamento delle prove fondamentali che sono quelle dichiarative e documentali, quindi è necessario che il giudice per poter avere una esatta percezione delle vicende e dei fatti di come si sono svolti effettivamente possa avere anche una idea, una percezione anche in questo caso dei luoghi e quindi poter inquadrare le prove dichiarative nel luogo in cui i fatti sono effettivamente avvenuti. Ed ora la cronaca Raide dei Ladri a San Benedetto del Tronto, dopo i colpi già registrati nei giorni scorsi nel Mirino la notte scorsa, due filiali di banca, la Banca di Credito Cooperativo e la Banca del Piceno, ad Appignano del Tronto e a Stella di Monsampolo, Bottino ancora da quantificare al lavoro gli inquirenti. Ed ora parliamo dell'alluvione che ha sconvolto le Marche lo scorso 15 settembre. Si aspettano risposte proprio in questo senso, lo ha detto il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, da parte del nuovo governo appena insediato. Sentiamo le sue dichiarazioni. La prima cosa che chiediamo è una risposta chiara e in maniera inequivocabile rispetto al tema dell'alluvione. Noi vogliamo poter dare delle certezze e vogliamo poter dare sia in termini di azioni da mettere in campo, sia in termini anche di risorse da mettere rispetto a quelli che sono i danni subiti dai privati, dalle imprese e da tutti i comuni. Credo che questa risposta sia una risposta che è indispensabile per ridare credibilità alle istituzioni perché purtroppo queste popolazioni aspettano ancora risposte dal 2014. Pesa molto la burocrazia, pesa anche un approccio che è quello che a normativa vigente prevede prima la ricognizione del danno dei privati e del pubblico prima di procedere a tutte le altre fasi, sia quella della ricostruzione sia quella del ristoro dei danni. È una burocrazia e delle procedure che sono assolutamente indispensabili e stiamo cercando di sostenere i territori, i sindaci e tutti i soggetti interessati col piedi dall'alluvione, ma contiamo nelle prossime settimane di poter dare una linea guida precisa rispetto a quelli che sono gli obiettivi che spero potranno essere raggiunti nel prima possibile, nel più breve tempo possibile, sia nel ripristino di tutte le infrastrutture, nel miglioramento delle infrastrutture, ma anche nella messa in sicurezza del territorio. Restiamo a parlare dell'alluvione di più di un mese fa ormai. Prima hanno spalato il fango, ora distribuiscono buoni spese. Ecco l'impegno di volontariato delle Brigate Volontarie per l'Emergenza Marche con una nuova sede a Senigallia, impegno che prosegue anche interamente sulle valli del Misa e del Nevola. Vengono da Senigallia, Ostra, casine di Ostra. Molti hanno perso tutto ritrovandosi da un giorno all'altro senza neppure una casa. Qualcuno invece è riuscito a salvare perlomeno una porzione di abitazione, magari un piano alto, ma si ritrova comunque a ricostruire una vita tra mille difficoltà. A queste famiglie arriva in questi giorni il sostegno dell'Associazione Brigate Volontarie per l'Emergenza che, in coordinamento con altri gruppi di volontariato, ha aperto da poco una nuova sede proprio a Senigallia, in via Nazario Sauro 18. Qui, chi ha bisogno, può venire a richiedere l'erogazione di buoni spesa. Fino ad ora sono una ventina le famiglie che ne stanno usufruendo perché il supporto, spiegano i volontari, non si ferma di certo all'emergenza. Chiaro, il nostro aiuto a livello fisico, a livello manuale, è stato un aiuto importante, ma più che altro si cercava anche di dare supporto psicologico a queste persone, cercare di indirizzarle, cercare di comprendere i loro bisogni, al di là del pulire e dello spalare purtroppo il fango. Già impegnati durante il Covid e poi persino in Ucraina, portando assistenza ai rifugiati di Leopoli, i ragazzi delle brigate si sono buttati senza pensarci in mezzo al fango durante l'alluvione e anche ora che l'emergenza è terminata, continuano a stare vicino a coloro che ne hanno bisogno. La ripartenza è probabilmente il fattore più difficile arrivati a questo punto. Si inizia con le pratiche, si iniziano con le modulistiche, quindi sicuramente il dolore delle persone che arrivano da noi, alla nostra accoglienza, è ancora alto. Noi cerchiamo di dare questo piccolo contributo a livello materiale col buono spesa, ma soprattutto cercando di costruire un punto, uno spazio dove nessuno deve sentirsi giudicato, nessuno deve avere assolutamente paura a confessare il proprio stato d'animo, il proprio stato di bisogno o semplicemente la volontà di voler chiacchierare e di richiedere sostegno. Quindi questo sicuramente è un qualcosa su cui vogliamo ripartire, la solidarietà attiva. Nuova terna per la giunta regionale dopo l'uscita di Guido Castelli, Mirco Carloni e Giorgia Lattini, eletti parlamentari nelle ultime elezioni, presentata dunque la nuova squadra con Andrea Antonini, Chiara Biondi della Lega, entrambi, e Goffredo Brandoni di Fratelli d'Italia. Tra i dossier dei nuovi assessori, le infrastrutture, i problemi delle imprese, in questa fase molto complicata a livello economico e geopolitico, poi il trasporto pubblico locale, le deroghe per la formazione delle classi scolastiche per quanto riguarda l'istruzione e soprattutto nei territori dell'entroterra e quelli già colpiti dal sisma del 2016. Vediamo il servizio. Nuova terna per la giunta regionale dopo l'uscita di Castelli, Carloni e Lattini, presentata la nuova squadra con Andrea Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni, tra i dossier da affrontare il completamento della terza corsia della 14, il prolungamento della Pedemontana, la Guinza, la Marimonti, la nuova Ferrovia Adriatica. Deleghe pesanti quelle di Antonini che riguardano soprattutto le attività produttive. Le priorità sono quelle di cercare di dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano che è in grande difficoltà per i problemi che purtroppo conosciamo tutti, calamità naturali ma anche sanitarie, economiche, quindi penso che la regione dovrà lavorare parecchio per sostenere le aziende, quindi questa è la priorità. Sulla energia credo che possiamo porre un'attenzione particolare, proprio lo sviluppo energetico e credo che sia strategico nel mio assessorato. La delega di peso per Brandoni è quella sul bilancio. Il 78% dei 5 miliardi riguarda la sanità e la rimanente parte riguarda tutti gli altri assessorati, tutti gli altri servizi. Indubbiamente oltre a tutto questo, come dicevo, tagli della finanza pubblica che sono stati avviati da parte del governo centrale nei confronti degli enti locali, in particolare comuni e regioni, ma più che altro le calamità che ci sono capitate. Poi la delega sul trasporto pubblico locale. Con gli aumenti dei carburanti e con due anni di pandemia hanno sofferto veramente molte aziende, e poi lo sapete sono quasi tutte provinciali, rischiano la chiusura. Questo è uno dei problemi immediati che ho sul tavolo. Istruzione sport e terzo settore cultura per Chiara Biondi. Proprio ieri ho avuto un confronto con il ministro e il neoministro Valditara, dove soprattutto io ho fatto presente quelle che sono le criticità che il nostro sistema scolastico deve affrontare, in maniera particolare il problema delle classi pollaio, ma soprattutto un'applicazione troppo stringente di quelle che sono le norme del DPR 81 del 2009, che prevede in maniera particolare che per poter costituire delle classi dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni numeriche. Purtroppo le marche, nonostante siano previste delle DERO che appunto all'interno di questa normativa, non sono per noi però favorevoli. Il problema dei morosi nei condomini, la situazione che viene aggravata già in queste settimane per il caro Bollette, però la vera emergenza dovrebbe arrivare proprio tra dicembre e gennaio, dice il vicepresidente nazionale degli amministratori di condominio, ospite di Maurizio Socci a Buongiorno TV. Vediamo. Abbiamo una situazione dove la maggior parte dei condomini che si trovano nelle città, diciamo così, nelle metropoli, che hanno gestione di riscaldamento centralizzato, il classico riscaldamento centralizzato, lì abbiamo dei grossi problemi perché essendo triplicati i costi, chiaramente faccio un esempio, un condominio che consuma 20.000 metri cubi di gas l'anno, con la gestione, diciamo, generale, e pagava prima, nel 2021 pagava dai 15 ai 18.000 euro l'anno di gas, si troverà a pagare tra novembre, febbraio, gennaio, 75.000 euro. Somme improponibili per i condomini, chiaramente. E questo porterà sicuramente a breve ad una grande recessione economica all'interno dei condomini. Il sistema giuridico non è preparato per questo. A un certo punto si arriva al distacco. C'è il piano B, diciamo, sarebbe un po' oltre al danno la beffa, perché chi già paga più la propria bolletta, cosa si può fare? C'è una colletta per pagare per chi non paga? Diciamo che il piano B è lo stesso piano B che se quando non ce la facciamo con la cassa per colpa dei morosi. Che c'erano anche prima della crisi delle bollette. Il piano B è quello di costituire con delibera ai sensi di legge un fondo cassa che chiaramente pagano i condomini che pagano sempre, purtroppo. Pagano i condomini che pagano, è una frase che riassume un po'. No, ma purtroppo, guardi, quando ci sono queste situazioni è inutile nascondersi dietro il dito. Noi abbiamo chiesto al governo, e chiederemo con forza in questi mesi, il discorso di fare una norma per la impignorabilità dei conti correnti dei condomini, proprio in funzione del fatto che i condomini non sono persone giuridiche, e per i condomini da parte degli enti fornitori, delle società fornitrici di energia. Il blocco delle sospensioni delle forniture? Quindi no al distacco? No, almeno per un tempo di 18 mesi no al distacco. E chiediamo anche un piano energetico strutturato, in modo tale che, a prescindere dai bonus, possano i nostri cittadini mettersi nelle condizioni di divenire quanto più autonomi possibile dalle forniture energetiche. Sul fonte energetico. Arriva anche Ciruzzo, il pesce mangia plastica a Porto Nuovo, per il progetto del Mise Costruiamo Circolare, per aumentare la conoscenza e l'educazione dei cittadini consumatori e utenti, verso appunto un consumo consapevole, sostenibile e circolare. Il servizio di Andrea Alfieri Padiglioni. Vediamo. Giovani ambienti, si sa, sono un connubio sempre più forte. Ha fatto tappa a Porto Nuovo, nel cuore del Parco del Conero, Costruiamo Circolare, il progetto nazionale, promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico e coordinato da Soutenti, che ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e giovani verso un consumo consapevole e sostenibile. Il Parco del Conero è stato infatti selezionato come tappa della campagna nazionale assieme ad altre cinque destinazioni, Ravenna, Polignano Amare, Mazzara del Vallo, Portici e Camogli. Una grande opportunità, indubbiamente, avere questo tipo di possibilità insieme ad altre cinque località che hanno certe caratteristiche, dove salvaguardare l'ambiente e dare una risposta e soprattutto una prospettiva alle nuove generazioni. Un percorso che aiuterà le nuove generazioni, quelle delle scuole medie e superiori, a capire ancora di più con consapevolezza quali sono i problemi e le tematiche legate a un'area protetta e non solo. Questo progetto girerà l'Italia. Abbiamo scelto il Conero perché è un ente parco che da sempre ha cura dell'ambiente e il progetto ha questo nello scopo principale, la cura dell'ambiente, le attività di sensibilizzazione per i cittadini e per i giovani soprattutto e quindi non poteva non essere dentro la nostra attività. Mascotte impatto zero del progetto è Ciruzzo, il pesce mangiaplastica creato con il riutilizzo delle plastiche che arrivano dal mare. La scultura è stata allestita da alcuni studenti dell'Istituto Savoia Benincasa di Ancona, mentre altri colleghi erano impegnati nel ripulire un tratto della Baia di Porto Novo, aiutati dalle associazioni ambientaliste del territorio, una collaborazione tra generazioni, quella messa in atto dai giovani ecologisti con l'obiettivo di promuovere il passaggio dalla cultura dello scarto e dello spreco alla cultura del riciclo e del riuso. L'occasione ci è stata data dal Parco del Conero con il quale abbiamo una convenzione e ci hanno permesso di creare questo ciruzzo mangiaplastica, questo pesce, e poi verrà inaugurato e verrà successivamente anche a essere esposto nella nostra scuola. E ora per gli appuntamenti vi segnaliamo il trofeo del Monte Conero, 40 auto d'epoca sfilano per i 122 anni della Croce Gialla di Ancona, è quindi un sodalizio che si consolida tra il Club Auto Motostoriche di Ancona e la Croce Anconetana, per l'occasione verrà proiettato al ridotto delle Muse un docufilm sulla città di Ancona nel dopoguerra. Ci racconta tutto e appunto il prossimo servizio, vediamo. Ancona è pronta ad abbracciare un evento che coniga solidarietà, motori e storia. Domani e domenica, 29 e 30 ottobre, spazio alla sedicesima edizione del trofeo del Monte Conero, Memorial Saurostacchi, l'appuntamento promosso in concomitanza con la celebrazione dei 122 anni dalla Fondazione della Croce Gialla di Ancona e a promuoverlo saranno il locale Club Auto Motostoriche col sostegno dei comuni di Ancona e Sirolo e dell'ente parco del Conero. Per noi è l'evento principe, perché è quello più importante, il nostro fiore all'occhiello. Avremo una folta partecipazione di equipaggi e quindi questo ci onora. In più abbiamo cercato di condirlo con delle cose molto interessanti. Tra questi ovviamente l'atteso corteo di vetture che hanno segnato anni dell'automobilismo e del motorismo. Gli equipaggi partiranno domani da Sirolo, passando nel cuore del Monte Conero fino all'arrivo nel capoluogo in Piazza Roma. Il pomeriggio, al ridotto del Teatro delle Muse, la proiezione di un film che racconta la Dorica e i suoi figli. Gli anni folli della velocità, vite straordinari è un film che racconta il dopoguerra di Ancona, soprattutto, e della provincia, attraverso lo sport, che fece d'accollante a una società che usciva pesantemente dalla Seconda Guerra Mondiale e quindi aveva una voglia di rinascita. Attraverso lo sport le masse sognavano attraverso questi idoli, eroi dell'automobilismo, del motorismo in generale. Domenica, invece, è prevista la visita alla Mostra Cose dell'altro mondo da Monet a Warhol presso la Pinacoteca Civica, seguita dalla Coppa Città di Ancona al Porto Antico, chiusura a Marina Dorica. Nel corso delle due giornate sarà possibile effettuare donazioni alla Croce Gialla di Ancona che ha collaborato attivamente all'organizzazione della manifestazione. In occasione del 122esimo anno di attività della nostra associazione, grazie all'invito del Club Auto Moto d'Epoca, parteciperemo con l'esposizione di due mezzi storici della nostra associazione, un Volkswagen degli anni 60 e un Fiat 238 degli anni 80. La collaborazione con il Club Auto Moto d'Epoca è da diverso tempo, è uno scambio reciproco, noi partecipiamo a loro eventi e loro vengono a fare della formazione al nostro personale come guida, guida sicura. E questo era il nostro ultimo servizio, io per il momento mi fermo qui. Vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.etvmarket.it Ci sono tutte le nostre video news anche sulla nostra app che potete facilmente scaricare sul vostro smartphone e ovviamente seguiteci anche sui social. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.